In questo numero di monitor consiglio via libera alla legge per il sostegno alle agenzie sociali per la casa. Accoglienza migranti, la comunicazione della vicepresidente della regione Stefania Saccardi. Via libera maggioranza con 30 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto alla proposta di legge ed iniziativa consigliare che porta la firma dei consiglieri del PD Marco Ruggeri, Ivan Ferrucci, Paolo Bambagioni, Vanessa Boretti, Eugenio Gianni, Simone Naldoni, Gianfranco Venturi, Lucia Matergi e Matteo Tortolini. L'idea alla base della legge è quella di sviluppare maggiormente il ruolo delle agenzie sociali per la casa, non a scopo di lucro, pubblici o privati, che si occupano dell'inserimento abitativo di fasce deboli della popolazione, che però non rientrano nella rete dell'edilizia popolare attraverso strumenti diversificati come la reperibilità di alloggi in affitto o incomodato alla presentazione di garanzie contro morosità e danni a vantaggio dei proprietari. Grazie a questa legge le agenzie, previo accreditamento secondo procedure e requisiti ben definiti, saranno rese in grado di collaborare con i soggetti istituzionali delle politiche regionali per la casa. Si parla di quella fascia di disagio sociale che non è edilizia pubblica, ma che attraverso gli strumenti politiche e sociali c'è la disponibilità anche di appartamenti per l'emergenza abitativa. È una legge che definisce i ruoli, i criteri e le peculiarità che devono avere questi strumenti, che non sono il gestore dell'edilizia pubblica, ma sono strumenti che i comuni hanno formato in questi anni e che con questa legge hanno un punto di riferimento oggi. Tra i compiti delle agenzie, così come illustrato dal presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture, Fabrizio Mattei, del PD, quello di reperire alloggi sul mercato libero con attività di mediazione e garanzia ai proprietari, di mettere a disposizione alloggi per forme di accoglienze emergenziali e in favore di nuclei familiari o di soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, a soddisfare il bisogno di casa. Pur condividendo le finalità, il consigliere Jacopo Maria Ferri di Forza Italia ha parlato di legge non contestualizzata. Abbiamo votato contro perché riteniamo che sia una legge che non serve a dare una risposta complessiva ai problemi delle politiche sulla casa. Bisogna ridurre i soggetti a cui il cittadino si deve rivolgere e non aumentarli, bisogna fare leggi che abbiano finanziamenti e non leggi che abbiano pochi spiccioli che non potranno essere utilizzati per nulla. Favorevole alla proposta si è dichiarata anche Monica Sgarri di Rifondazione Comunista, comunisti italiani, ma sempre secondo la consigliera, il grande assente è un piano straordinario per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica. I soldi ci sono, si tratterebbe di fare un'azione verso il governo affinché questi soldi non rientrassero nel patto di stabilità per rispondere a chi oggi rischia uno sfratto con le forze dell'ordine pubblico al pari di un qualunque malfattore semplicemente perché ha perso il lavoro e non può pagare l'affitto. In sede di dichiarazione di voto ha annunciato voto favorevole anche consiglieri Giuseppe Del Carlo e Marco Taradasch dell'Udc e del Nuovo Centrodestra. La situazione del disagio abitativo è grave per cui ecco queste forme di agenzie sociali per la casa che fanno in modo che ci siano interventi non solo da parte dell'edilizia pubblica ma anche da parte per esempio delle fondazioni bancarie che mettono a disposizione dei fondi per l'acquisto di alloggi per l'emergenza abitativa perché secondo noi è insufficiente quello che sta facendo l'edilizia pubblica da parte degli enti territoriali. In Toscana il 12 dicembre scorso erano presenti 2.593 persone tra rifugiati e richiedenti asilo a fronte di circa 4.000 arrivi. L'accoglienza dei migranti in Toscana si inserisce nel quadro della cooperazione interistituzionale definita nell'intesa Stato regioni e enti locali dello scorso luglio. Dal 2011 la regione ha adottato un modello di accoglienza diffusa per evitare grandi concentrazioni di migranti e situazioni di criticità come i CIE. Lo ha dichiarato la vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi nella comunicazione in consiglio regionale sulla gestione dell'accoglienza migranti e sistema del welfare. La vicepresidente ha spiegato che in risposta al contesto di emergenza che si è registrato fin dall'inizio del 2014 i profughi vengono inseriti in percorsi di accoglienza sulla base delle disponibilità raccolte dalle prefetture della regione. Quindi la regione è impegnata a realizzare un sistema di distribuzione delle accoglienze su base provinciale con il coinvolgimento degli enti locali cercando di sfruttare, ha detto Saccardi, il sistema di accoglienza che c'è già sui territori. La necessità è quindi quella di reperire strutture piccole di circa 50 posti per la prima accoglienza e lo screening sanitario idonee a una permanenza di circa due mesi. Saccardi ha anche annunciato una collaborazione con l'assessore regionale all'agricoltura Salvadori per far svolgere ai migranti attività socialmente utili nel settore ambientale. Per quanto riguarda i minori stranieri, per la prima volta il governo se ne è accollato le spese per buona parte. La regione ha comunque fatto una delibera nello scorso luglio che autorizza l'accoglienza di minori strutture meno costose adatte a minori dei 16 anni in su. In più, ha aggiunto Saccardi, la regione sta predisponendo una delibera per incrementare del 25% le possibilità di accoglienza di strutture per minori sul territorio vista l'autorizzazione alle regioni contenuta nella circolare del Ministero degli Interni del luglio 2014. Secondo la consigliera Lucia De Robertis del PD di la regione sta facendo politiche corrette per quanto riguarda l'accoglienza ai migranti. Comunicazione decisamente interessante che delinea le politiche della regione sulle emergenze che stiamo affrontando che, a dire il vero, non sono più tanto emergenze visto la situazione politica internazionale. Una politica regionale però che va a mitigare le criticità che ci sono nei territori andando ad assegnare ai territori stessi in accordo con le amministrazioni comunali e attraverso le prefetture piccoli gruppi e si può fare veramente integrazione perché i grandi centri non ci sono mai piaciuti abbiamo da sempre appoggiato le politiche del presidente Rossi la regione sta declinando questa volontà politica in atteggiamento di supporto alle amministrazioni locali ci convince e crediamo che questa sia la risposta a un'integrazione vera. Secondo il consigliere di Forza Italia Tommaso Villa l'immigrazione ha tre problemi spese, sicurezza e sanità. Sul fronte delle spese il consigliere chiede cosa accadrà quando saranno terminate le risorse stanzate dal governo sulla sicurezza invece ci vorrebbero maggiori controlli. Terza ed ultima questione l'aspetto sanitario sappiamo, l'ho detto l'assessore in commissione e credo lo dirà a breve anche in aula ci sono rischi sanitari di TBC in particolare e di scabbia sappiamo che i controlli vengono fatti sulle navi direttamente quando arrivano in Sicilia ma non sappiamo se questi controlli che sono partiti con Mare Nostrum proseguiranno con Triton e soprattutto qual è la situazione ad oggi? Perché i controlli sono garantiti a tempo finché anche qui ci saranno i soldi dopodiché queste persone continueranno ad arrivare e nessuno potrà garantire se non un bel mucchio di parole. Per il consigliere Gianluca Razzeri di più Toscana bisogna ragionare sulla compatibilità del flusso immigratorio nella nostra regione. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di ragionare sui flussi migratori che noi siamo capaci di assorbire come regione e quindi su quello poi ragionare per allestire un sistema di accoglienza che non sia soltanto venite, qui si sta bene come si diceva nel passato poi chiudendo gli occhi di fronte ai problemi che emergono sul territorio salvo poi qualcuno invece riuscire a avere accesso ai servizi sociali della regione toscana creando poi difficoltà invece per chi era residente in Toscana da più tempo si trovava escluso. Quindi dobbiamo rendere questo flusso compatibile adottando delle politiche di accoglienza che siano però nei numeri che il nostro sessuto sociale e economico può assorbire. Marta Gazzarri di Toscana Civica Riformista ha giudicato positiva l'accoglienza diffusa sul territorio e ha invitato la regione al massimo coinvolgimento degli enti locali. Sicuramente l'immigrazione non va vista come un fenomeno, un problema che non ci riguarda al di fuori della società ma oggi parlare di immigrazione vuol dire parlare di sociale vuol dire parlare di sanità, vuol dire parlare di lavoro vuol dire parlare anche dell'istruzione l'istruzione è una cosa molto molto delicata perché riguarda una fascia debole per quanto riguarda l'immigrazione non mi riferisco ai minori, quindi una situazione che va monitorata e che va accompagnata. Mauro Romanelli sottolinea come la Toscana sia sempre stata modello di accoglienza soprattutto nelle fasi di emergenza come delle guerre in Nord Africa e in Libia. Nell'ultima finanziaria abbiamo stanziato anche un milione di euro per i lavori socialmente utili per quei migranti appunto che sono in situazione di accoglienza e che in qualche maniera poi devono rendersi utili alle comunità che li ospitano insieme magari anche a disoccupati italiani per dare un sostegno e dare il senso che non si fanno le guerre fra poveri. Quindi diciamo che su questo tema, sul tema dell'integrazione scolastica dell'integrazione delle donne, la Toscana continua ad essere abbastanza avanti. Gabriele Chiurli, consigliere regionale del gruppo misto, punta il dito contro gli investimenti per il superamento dei campi rome ed ha sottolineato come oltre 700 rome sinti su 2885 vivono in case popolari. Evidentemente i rome sinti hanno un canale privilegiato forse perché riescono a farsi fare le fotografie o i selfie, non ho capito, con un presidente che evidentemente nei loro confronti diciamo li mette nella propria rosa e non capisco perché comunque gli altri cittadini debbono rimanere esclusi, forse perché per il presidente Rossi non sono abbastanza fotogenici. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia ha dichiarato di aver apprezzato un passaggio della relazione, quello dove si esprime la volontà di evitare che gli immigrati restino ospiti inoperosi. Perché se pensiamo che l'accoglienza di questi cosiddetti richiedenti asilo poi nessuno di questi alla fine ottiene la richiesta d'asilo e ha con successo. Di fatto sono dei clandestini, un nuovo modo per identificare i clandestini e questi ricevono e costano diciamo allo Stato tre volte tanto una pensione sociale e cinque volte tanto, quattro volte e mezzo una pensione di invalidità. Oggettivamente tutto questo porta a rabbia e ingiustizia sociale e oggettivamente rischia di creare uno spiacevole razzismo ma non c'è razzismo ma si rischia altrimenti di arrivare al razzismo all'incontrario che i poveri toscani italiani sono gli ultimi a essere presi in considerazione. Grazie Grazie Grazie